La curva a sud del Milan ricorda un tifoso speciale. Era uscito con 40 di febbre per andare a vedere il suo Milan. Non aveva mai perso una partita. È uscito con la bicicletta per andare al solito bar dove con gli amici vedeva il suo Milan. Ma durante il tragitto, per la febbre alta e per la fatica e per l'età, perché aveva più di 80 anni, è morto nel tragitto. Così la curva a sud ha voluto a San Siro ricordarlo con un striscione. Si chiamava Roberto Avanzi ed era un pensionato ottantenne di Mesola, in provincia di Ferrara. Quindi uno storico tifoso del Milan. In occasione della sfida tra il Milan e il Frosinone, poi terminata 2-0 per il Milan, domenica, è stato ricordato un tifoso speciale, Roberto Avanzi. Di partite non ne aveva persa uno. E settimana scorsa era uscito con la febbre in bicicletta per andare a vedere il suo Milan. Che era in gara appunto con la Fiorentina al Franchi. Una sfida decisiva per il quarto posto e la qualificazione alla Champions League. Lungo il tragitto è stato appunto stroncato da un malore. Così racconta la nuova Ferrara e il quotidiano locale. La moglie aveva provato a farlo desistire, ma lui era uscito comunque. Aveva più di 38 di febbre. Lui diceva 38, ma la moglie sapeva che erano anche 40. Quindi la curva a sud lo ha ricordato con lo striscione Milan prima di tutto. Grazie. 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 Grazie.